Calabria maglia nera per l'occupazione, attualmente il 20% della popolazione senza lavoro, a dirle l'Istat, un dato impressionante che rispetto allo scorso anno è cresciuto di quasi 8 punti percentuali. Nel 2011 infatti nella nostra regione la popolazione attiva senza occupazione era il 12%. Aumentano anche le persone che cercano un lavoro, si è passati infatti da 77.000 a 140.000 calabresi. Un incremento di oltre 81 punti percentuali. Altro dato negativo in materia di occupazione è quello riferito al tasso di attività che passa dal 47,5 al 51,9%. Un indicatore che descrive l'afflusso di nuove persone in cerca di un impiego, sia calabresi che per fronteggiare la crisi sono costretti ad entrare nel mercato per aumentare il proprio reddito. E' il caso di tante famiglie, soprattutto quelle monoreddito. Ma non è il primo allarme che è stato lanciato alla Calabria. Già nel luglio scorso Confindustria parlava di situazione drammatica soprattutto per i giovani. Solo il 25,2% ha un posto sicuro. Il resto si divide tra disoccupati e lavoratori in nero. Inoltre molti giovani emigrati al nord hanno fatto ritorno a casa. Le cause principali, la perdita del posto di lavoro e l'aumento del costo della vita. Più fortunati i giovani del nord, in Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, trovare un lavoro non è difficile. E l'occupazione è cresciuta sensibilmente. E l'occupazione è cresciuta.